Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. La storia di questo serial onestamente mi ha colpita molto, specialmente il movente per cui uccideva. Era chiamato l'assassino della rabbia proprio perché era questa emozione a dominarlo durante le sue azioni torbide. Si disse che fu a causa dei tradimenti del partner che cominciò ad uccidere. Io onestamente credo che non sia una giustificazione adeguata e ci mancherebbe altro e che non sia il solo motivo ad aver scaturito questa sua follia omicida, ma come al solito partiamo con ordine. Larry Ehler nasce il 21 dicembre 1952 a Crawfordsville, nell'Indiana. È il quarto figlio di George Ehler e Shirley Kennedy. Vive un'infanzia molto tumultuosa. Infatti suo padre è un alcolizzato fisicamente ed emotivamente violento nei confronti di sua moglie Shirley e dei suoi quattro figli. La coppia divorzia però nel 1955, quando Larry ha soli tre anni. Shirley a questo punto si trova costretta a svolgere più lavori. Due giorni alla settimana fa la cameriera, lavorando in un bar, mentre nei fine settimana e nei giorni feriali lavora in una fabbrica. Nonostante le lunghe ore di lavoro, è a malapena in grado di sostenere finanziariamente i suoi quattro figli piccoli. Guadagna poco e quattro bocche da sfamare sono pur sempre quattro bocche da sfamare. Larry e sua sorella maggiore vengono spesso affidati alle cure di babysitter o famiglie affidatarie. Vista la lunga assenza della madre. Ma ciò non significa che Shirley sia assente. Tiene molto i suoi figli e quando Larry e sua sorella sono in affido, lei dedica il suo tempo ai figli più piccoli. Nel 1957 Shirley si risposa anche se il matrimonio dura solo un anno. Il suo terzo matrimonio nel 1960 dura quattro anni, poi divorzia ancora una volta. Si sposa di nuovo nel 1972. I primi due patrigni di Larry sono simili al suo padre naturale, alcolisti e violenti. Uno dei patrigni, un giorno, tiene addirittura la testa di Larry sotto l'acqua bollente come forma di punizione. Larry ricorderà a lungo questo episodio. Il ragazzo frequenta la St. Joseph's School in Libano, nell'Indiana. I suoi insegnanti lo vedono come un ragazzo tranquillo, con pochi amici, ma tutto sommato simpatico e rispettoso. Tuttavia, si sa, gli adolescenti sanno essere davvero cattivi e Larry è vittima di bullismo. Perché sua madre è divorziata e perché proviene da un ambiente povero. La sorella maggiore di Larry, Teresa, cerca spesso i bulli di suo fratello per dargli una lezione. Ma da introverso e timido Larry, crescendo, inizia a mostrare un comportamento irregolare. Nel 1963, sua madre lo manda in una casa per ragazze ribelli, dove però vive un'esperienza piuttosto traumatizzante. E implora a sua madre di lasciarlo tornare a casa. Dopo alcune settimane, in quella struttura completa una serie di test psicologici. I risultati sono, a mio parere, già un campanello d'allarme. Infatti, Larry risulta avere un'intelligenza nella media, ma è gravemente insicuro e ha un'enorme fobia da separazione e da abbandono. Fobie profonde, radicate, non solo piccole paure. Ma cosa vuol dire esattamente tutto questo? Da dove derivano queste sensazioni? Ebbene, la prima esperienza di separazione avviene alla nascita, quando ci separiamo dalla fusionalità corporea con la madre. Senza rendercene conto, durante la nostra vita cerchiamo un rapporto fusionale con l'altro per riparare la ferita dell'originaria separazione. La figura materna, insieme al contributo di quella paterna, chiaramente, ha il dovere di far evolvere il proprio figlio verso una matura separazione dalle figure genitoriali, conducendolo ad un percorso di autonomia e indipendenza. Se questo processo non avviene correttamente, le successive separazioni nella vita risulteranno essere molto dolorose. I membri dello staff che valutano Larry stabiliscono che i suoi problemi derivino chiaramente dalla sua vita familiare e dai rapporti che ha avuto con il suo padre biologico e i suoi patrigni. Con questi risultati, Tess Larry al posto di tornare a casa viene mandato in una casa per ragazzi cattolici a Fort Wayne. Lì ci rimane per sei mesi prima di tornare a casa con sua madre. Nella sua prima adolescenza, Larry si rende conto di essere gay. Il ragazzo è aperto sulla sua intimità, ma non la vive in modo sereno. Lotta con l'omofobia che lo fa sentire del tutto sbagliato e inadatto. Mentre frequenta il liceo di South Putnam, il ragazzo prova ad uscire con alcune ragazze, anche se non ha mai alcun rapporto fisico con loro. Ammette con alcuni dei suoi amici più cari durante il liceo che, a causa della sua educazione religiosa, sta lottando duramente per accettare di essere gay. Larry non risulta uno studente particolarmente dotato, dunque senza troppi ripensamenti abbandona la scuola per lavorare come guardia di sicurezza privata al Marion County General Hospital, ma durerà solamente sei mesi prima di essere licenziato. Successivamente trova lavoro in un negozio di scarpe. Ben presto, Larry conosce la comunità gay di Indianapolis e inizia a frequentare dei locali per omosessuali, allo scopo di incontrare altri giovani uomini. Durante la metà degli anni 70, Larry diventa famoso nella comunità gay, ma non per qualche pregio, bensì per una sua stranezza. Infatti il ragazzo ha un particolare fischio per la pelle. È, in ogni caso, visto come un uomo attraente e rilassato, a cui piace moltissimo il bodybuilding. Alcune delle persone con cui ha avuto rapporti intimi, tuttavia, sanno che Larry ha una vena sadica e un brutto carattere durante l'intimità. Spesso picchia i partner riluttanti e infligge loro ferite con un coltello, ferite poco profonde ma pur sempre ferite, che si concentrano sul busto del suo partner. Arriviamo al 1974, mentre frequenta l'Indiana State University, Larry incontra Robert David Little, un professore di scienze di 38 anni. Larry considera la relazione tra lui e Robert platonica. Vede il professore come una figura paterna. Ben presto Larry si trasferisce nell'appartamento di Robert, che si trova a Terre Haute, una città capoluogo della Contea di Virgo, in Indiana. I due iniziano a frequentare insieme alcuni bar gay e si divertono molto, per quanto siano così diversi. Infatti, se Larry è bello e curato, Robert invece risulta essere socialmente goffo, introverso e poco attraente. Ha infatti difficoltà a fare amicizia e ha ancora più difficoltà a trovare un partner. Spesso Larry esce dai bar gay e porta a casa dei giovanotti per condividerli con Robert. Successivamente il protagonista di questo caso si trasferisce a Chicago, dove comincia a lavorare come in bianchino. Indossa spesso magliette del corpo dei Marines, berretti quadrati, pantaloni e calzature militari, anche se non ha mai vissuto un'esperienza militare. Con questi vestiti addosso pare che riesca a crearsi un personaggio più sicuro e arrabbiato rispetto a quando indossa i suoi vestiti. È proprio grazie alla sicurezza che questo nuovo personaggio che si è costruito gli dà, che Larry inizia a voler mettere davvero in pratica le sue fantasie intime più recondite. Prima, la maggior parte delle sue esperienze intime erano basate sulla fantasia, l'immaginazione per l'appunto. Ma la fantasia a Larry non basta più. Il 3 agosto 1978 esce carica in macchina il 19enne Craig Long, che sta facendo l'autostop sulla settima strada di Terre Haute in Illinois, non in Indiana. Una attenzione. Larry fa delle avance al ragazzo, ma questo si dimostra disinteressato e cerca addirittura di scendere dalla vettura. Ma Larry gli punta un coltello contro il petto. Craig esclama, non ho soldi, temendo di essere accoltellato o ucciso. Larry risponde, non sono i tuoi soldi che voglio, non sto cercando i tuoi soldi. Poi costringe Craig a spogliarsi. Successivamente lo ammanetta, gli lega le caviglie e lo costringe a salire nel retro del pick up. Non appena Larry inizia a spogliarsi, Craig però prova a scappare. Larry lo insegue, non vuole fugga e non mostra paura di arrivare fino in fondo. Addirittura una volta raggiunto, lo pugnala al petto. L'ama penetra nel suo polmone. Quando Craig crolla a terra, si finge morto e fortunatamente lo stratagemma funziona. Perché Larry lo lascia lì, sul campo, non curandosi nemmeno di nascondere le prove. In seguito Craig riesce a raggiungere una casa nei dintorni, i quali i proprietari di casa chiamano immediatamente un'ambulanza per il giovane. Larry nel frattempo va a bordo del suo pick up in una stazione di polizia. E attenzione, dà al vice sceriffo la chiave delle manette con cui aveva immobilizzato Craig. E gli dice che è vero, ha accoltellato un ragazzo. Ma è stato un incidente. Così Larry viene arrestato per aggressione e tentato omicidio. Quando la polizia perquisisce il suo veicolo, trova un coltello da macellaio, un coltello da caccia, gas lacrimogeni, una spada, una frusta con la punta di metallo e altre manette. L'assalto a Craig porta Larry ad essere accusato di aggressione aggravata. Si dichiara colpevole e il giudice fissa la sua cauzione a 10.000 dollari. Gli amici di Larry fanno una colletta, mettono insieme i loro soldi così da poterlo rimettere in libertà. Gli avvocati di Larry affrontano Craig Long e gli offrono un assegno di 2.500 dollari in cambio della promessa di non sporgere denuncia contro il suo aggressore. I soldi sono offerti da Robert, il professore. Craig decide di accettare l'offerta e Larry cambia la sua dichiarazione, affermando quindi di non essere colpevole. Il 13 novembre il ragazzo viene assolto pagando 43 dollari di spese processuali. Nell'agosto del 1981 Larry inizia una relazione romantica con il ventenne John Dobrovolskis, un uomo gay che vive con una moglie e cinque figli in North Greenview Avenue a Chicago, Illinois. Sua moglie sa che John è gay e lo accetta. Il ragazzo di suo marito Larry sta con loro nei giorni feriali e paga un terzo dell'affitto. John e Larry hanno un interesse comune per il suo maso. Come già abbiamo accennato, Larry adora legare il suo partner per poi picchiarlo e frustarlo, mentre urla e impreca contro di lui. Nessuno dei due è monogamo. Hanno entrambi altri partner occasionali, ma i due trascorrono davvero molto tempo insieme. Eppure questa cosa Larry inizia a non bastare più. Il ragazzo infatti vorrebbe John tutto per sé, ma John avendo anche una famiglia da mantenere spesso rifiuta gli inviti di Larry. E quest'ultimo odia il fatto di non essere l'unico nella vita di John. Discutono spesso proprio riguardo questa situazione. Spesso questi discorsi portano John ad aggredire fisicamente Larry, che attenzione si rifiuta di difendersi o contrattaccare. A volte le loro discussioni riguardano il fatto che Robert Little odi da morire John. È estremamente risentito per il fatto che Larry abbia una relazione a lungo termine con lui. Durante questo periodo Larry lavora principalmente nei giorni feriali, come in bianchino a Chicago e a Terre Haute. Il sabato lavora come commesso in un negozio di liquori a Green Castle, nell'Indiana. Viaggia spesso tra i due stati guidando il suo pick-up. Quindi, ricapitolando, il ragazzo vive gratuitamente nell'appartamento a Terre Haute di Robert Little, mentre nei fine settimana e nei giorni feriali sta a casa di John. Dal 1982 al 1984 Larry commette almeno 21 omicidi e un tentato omicidio. I crimini che commette sono simili all'attacco contro Craig Long avvenuto anni prima. L'uomo lega le sue vittime usando manette e vende col fine di sottometterle. Quindi inizia a praticare dei tagli non troppo profondi per poi pugnalare loro il busto. Alcune delle sue vittime vengono sventrate e altre smembrate. Spesso le obbliga a bere dell'alcol mischiato a dei sedativi, in modo da ridurli in degli stati di incoscienza o semi-incoscienza. Larry offre spesso alle sue vittime una somma di denaro in cambio di un atto intimo. Atto che però non si consuma mai. Abbandona la maggior parte delle sue vittime nei campi rurali vicino alle autostrade interstatali che percorre mentre altre vittime vengono sepolte in fosse poco profonde. Vengono tutte trovate con i jeans e la biancheria intima fino alle ginocchia o alle caviglie. L'uomo butta i loro effetti personali, in particolare i loro portafogli e le carte d'identità per ritardare il riconoscimento in caso di ritrovo dei corpi. Ed ora, vi avviso, sta per iniziare una lunga lista di vittime che è buona cosa a ricordare sempre. Ovviamente. Le 12 ottobre 1982 Larry ad occhio alla sua prima vittima, il 21enne Craig Townsend, a tirare il ragazzo nel suo veicolo a Crone Point in Indiana. Il giovane viene poi ritrovato nudo in un campo rurale. Craig era stato sedato e picchiato così duramente che era andato in coma. Miracolosamente però il ragazzo riesce a sopravvivere all'assalto. Il 23 ottobre 1982, appena 11 giorni dopo l'assalto a Craig, Larry rapisce il 19enne Stephen Crockett. Il corpo di Stephen viene trovato 12 ore dopo essere stato assassinato in un campo di grano, nella contea di Kankakee, in Illinois. Viene eseguita un'autopsia che dimostra che, nonostante le botte, il ragazzo era morto per accoltellamento. Aveva 32 ferite da taglio, di cui ben 4 alla testa. Una settimana dopo, il 30 ottobre, il 26enne Edgar Ander Koffler scompare dalla sua casa di Rantoul, nell'Illinois. Larry aveva scaricato il corpo di Edgar in un campo vicino a Danville, Illinois. I suoi resti non vengono scoperti fino al 4 mazzo 1983. Durante la prima parte di novembre, Larry uccide il barista 25enne John Johnson. Il suo corpo viene abbandonato vicino a Lowell, nell'Indiana. Il 18 ottobre 1983, una coppia sposata di ricercatori di funghi, fa una scoperta sorprendente. Durante l'esplorazione di una fattoria abbandonata, trovano un teschio umano che sporge dal terreno. La polizia, dunque, si dirige nella fattoria abbandonata, nella contea di Newton, nell'Indiana. Gli scoprono i resti di altri 4 giovani sepolti nella proprietà. Le quattro vittime vengono trovate in fosse poco profonde, i loro corpi ricoperti di terra e foglie. Erano stati tutti sepolti in tempi diversi nei mesi precedenti. I giovani erano stati tutti legati e pugnalati a morte. C'erano tre corpi sepolti nelle immediate vicinanze, mentre il quarto corpo era a una discreta distanza. I cadaveri erano tutti in diversi stati di decomposizione, poiché tutti sepolti in tempi diversi. Avevano i pantaloni e la biancheria intima tirati giù. Due delle vittime vengono identificate nel giro di pochi mesi. Uno, John Bartlett, aveva 19 anni ed era stato recentemente congedato dall'esercito. Tornato a casa dalla sorella a Chicago, era scomparso il 2 marzo del 1983. L'altro, il 22enne Michael Bauer, un fattorino della pizza che aveva vissuto con i suoi genitori a Portage Park, un quartiere di Chicago, era scomparso l'8 marzo 1983, quando era uscito per buttare la spazzatura. La terza vittima ritrovata non viene identificata prima del 2021, dopo decenni di tentativi. Almeno una viene identificata come il 19enne John Brandenburg Jr. di Chicago, Illinois. Il giovane era scomparso il 29 maggio 1983, dopo essere uscito di casa per andare in visita da un amico. Sfortunatamente la quarta vittima non riuscirà mai invece ad ottenere un nome. Il John Doe, soprannominato Adam dal medico legale della contea di Newton, era un giovane adolescente nero, che viene sepolto nel mausoleo del Riverside Cemetery a Brook, nell'Indiana. Tre giorni dopo che i ricercatori di funghi avevano trovato le quattro vittime nella fattoria abbandonata, anche un contadino nella contea di Jasper, nell'Indiana, scopre dei resti umani. Appartengono ad un uomo non identificato, poco più che ventenne, con i capelli castanum rossicci lunghi fino alle spalle. Anch'esso è una vittima di Larry. Indossava jeans levis con una cintura di pelle marrone e una giacca grigia con cappuccio. Il ragazzo, tuttavia, rimane non identificato per quasi 40 anni ed è conosciuto come il Jasper County, John Doe. Il coroner della contea, Andrew Boiersma, che gettisce anche un'impresa di pompe funebri, lavora per anni nel tentativo di identificare l'uomo sconosciuto. Al John Doe della contea di Jasper era stato dato il nome di Ellis. Andrew e sua moglie trascorrono ben 20 anni cercando di identificare Ellis. Andrew dice quanto segue sulla vittima non identificata. Credo che questo giovane abbia bisogno di trovare la sua famiglia e che i suoi resti vengano restituiti. Abbiamo intrapreso questa avventura per cercare di raccogliere tutte le informazioni possibili. Andrew riesce a raccogliere prove del DNA sui resti umani che spera possano essere utilizzate per identificare positivamente la vittima. Il John Doe della contea di Jasper viene sepolto nel cimitero di McKeever. Paul David Ricker, ossia l'ufficiale che rispose alla chiamata dei ricercatori di funghi, raccoglie delle donazioni dal dipartimento di polizia e acquista una lapide per John Doe. Andrew assume Redgrave Research Forensic Service, un'agenzia delle forze dell'ordine, all'inizio del 2021. L'agenzia è in grado di utilizzare i campioni di DNA per rintracciare dei potenziali parenti della vittima. Testano il suo DNA con un campione inviato da una persona ignota che decide di sottoporsi al test temendo di essere la sorella della vittima. Il 2 dicembre 2021 le autorità tengono una conferenza stampa annunciando di aver scoperto l'identità del John Doe della contea di Jasper. Si tratta del 19enne William Bill Joseph Lewis del Perù, nell'Indiana. Nel novembre 1982 William Lewis aveva fatto l'autostop da Houston in Texas al Perù, nell'Indiana. Aveva partecipato al funerale di un amico in Texas. William era un giovane tranquillo e un giocatore di football al liceo. La sua carriera sportiva era durata finché non si era rotto la gamba a sinistra. Aveva abbandonato la scuola dopo il suo infortunio. La famiglia del ragazzo stava cercando il loro parente scomparso da ormai 38 anni. Nella dichiarazione di confessione postuma di Larry, che viene rilasciata dopo la sua morte nel 1994, aveva omesso di aver caricato in macchina un ragazzo il 20 novembre 1982. Vicino a Vincennes aveva guidato con William per alcune ore fino a quando non raggiunsero la contia di Jasper. Lì lo obbligò a buttare giù un farmaco sedativo e ipnotico soporifero con della birra. Arrivati a Jasper County, William era semicosciente come molte delle sue altre vittime, venne legato, imbavagliato e poi assassinato. Larry abbandonò il corpo dell'adolescente in un campo rurale vicino a Rensselaer, nell'Indiana. I suoi resti non furono scoperti fino a quasi un anno dopo. I resti di William, che ricordiamolo, erano stati sepolti come il John Doe, vengono inviati nella sua città natale in Peru, dove viene poi sepolto insieme al suo defunto padre. Nel novembre del 1982, Larry aveva iniziato a colpire in Illinois, dove aveva ucciso Robert Foley, lasciando il suo corpo in un campo vicino a Jolie. Il giorno di Natale del 1982, il corpo del 25enne John Johnson viene ritrovato in un campo fuori Belshaw, nell'Indiana. Tre giorni dopo, il corpo del 21enne John Lee Roach viene scoperto nei boschi vicino a Putnamville, nell'Indiana. Lo stesso giorno in cui il corpo di John Lee Roach viene scoperto, il 23enne Stephen Hagan viene trovato pugnalato a morte, con i pantaloni calati fino alle caviglie. Il corpo del 21enne Daniel Scott McNeve viene scoperto in un campo sulla State Road 39, il 9 maggio 1983. La polizia a questo punto prende in considerazione l'ipotesi che gli omicidi di John Lee Roach, Stephen Hagan e Daniel Scott McNeve siano collegati. Il sospetto nasce quando iniziano a concentrare la loro attenzione sull'area centro-occidentale dell'Indiana. Il 7 dicembre 1983, i corpi di due giovani vengono scoperti in un campo a ovest di Belleville e a est di Cox Plant Farm. Uno degli uomini viene successivamente identificato come il 21enne Richard Wayne di Indianapolis. All'altra vittima, non ancora identificata, viene dato il nome di The Wayne. Era un maschio nero con un'età compresa tra i 25 e i 39 anni. Il 19 dicembre il 23enne Stephen Hagan viene rapito a Terre Haute. Il suo corpo viene trovato in una zona ricca di boschi vicino a una fattoria abbandonata. Sull'Indiana State Road 63, il 28 dicembre. Il corpo di Stephen era stato pesantemente mutilato, aveva gravi ferite al petto, all'addome e alla gola. Il rapporto dell'autopsia descrive l'estrema rabbia nell'omicidio di Stephen, al punto che inizialmente si pensa siano implicati ben due colpevoli in quel particolare omicidio. Il dottor John Pless, che aveva eseguito l'autopsia su Stephen Hagan, esegue un'autopsia su un'altra delle vittime di Larry, un uomo di 21 anni di nome John Roach. Il corpo di John Roach viene trovato lo stesso giorno di Stephen Hagan. Viene scoperto vicino all'Interstate 70, nella contea di Putnam. I loro corpi erano distanti solo una cinquantina di miglia. Il dottor Pless nota che ci sono molte somiglianze tra le due vittime. Entrambi avevano subito gravi ferite al petto, alla gola e all'addome e credeva che fossero stati uccisi dallo stesso assassino. Il 30 dicembre, il 21enne David Block scompare da England Park, in Illinois. David si era laureato alla Yale University. Aveva detto alla sua famiglia che sarebbe andato a trovare un amico a Hydewood. Il corpo di David viene trovato in un campo a sud della Route 173, in Illinois, il 7 maggio 1984. Il 24 gennaio 1983 Larry rapisce Irving Gibson da Lake Country, Illinois. Il suo corpo viene scoperto il 15 aprile adagiato sopra un cane morto. Entrambi erano stati pugnalati a morte. Da marzo ad aprile 1983 Larry Hayler aveva ucciso altre cinque vittime. Il 22 marzo 1983 il 29enne J. Reynolds viene pugnalato a morte e gettato giù da un terrapieno. J. Reynolds aveva frequentato la Lexington Catholic High School e si era laureato nel 1975 alla Transylvania University. Aveva vissuto a Pebble Lake Drive a Lexington nel Kentucky con suo figlio di nove anni. J. Reynolds possedeva due gelaterie Lexington Baskin Robbins. La notte in cui è scomparso, J. era uscito con degli amici a cena e poi se n'era andato alle 21.30 per chiudere i suoi due negozi. Era l'ultima volta che i suoi amici lo videro vivo. Quando J. Reynolds non torna a casa quella notte i suoi amici contattano la polizia e presentano una denuncia di scomparsa. La polizia di Lexington inizia le ricerche. Il giorno successivo la Honda del 1981 di Reynolds viene trovata abbandonata in un campo nella Contea di Fayette. Il sedile del conducente è inzuppato di sangue e la giacca e il portafoglio di J. non si trovano da nessuna parte. Il 23 marzo 1983 il corpo di J. Reynolds viene trovato a 10 miglia a nord di Richmond. Il suo corpo era in fondo a un fosso a Lookout Point vicino a Clay's Ferry, un'azienda specializzata nella produzione di cosmetici. J. era stato pugnalato a morte anche se il suo corpo non era stato mutilato come alcune delle vittime di Larry. I corpi di altri due uomini vengono trovati nella stessa area in cui era stato trovato il corpo di Reynolds. Anche se non è chiaro se la loro morte sia collegata a J. Reynolds. Quando la polizia inizia le indagini riesce a risalire a un club di caccia di Lexington vicino a dove era stata trovata l'auto di Reynolds. In effetti vengono trovate delle tracce di sangue al club di caccia anche se non in quantità sufficiente per risalire a un individuo certo. La polizia crede che J. Reynolds era stato ucciso nel luogo in cui era stato trovato il suo veicolo. Anche l'altra vittima del circolo di caccia era stata accoltellata a morte quella notte. Il suo corpo viene trovato in fondo a un terrapieno. Il 9 maggio 1983 il corpo del 21enne Daniel Scott McNeve viene scoperto in un campo vicino all'Indiana State Road 39 nella contea di Hendricks. Aveva subito 11 coltellate al collo e 11 coltellate all'andome. Una delle coltellate era così violenta che parti del suo intestino tenue erano scivolate fuori dalla ferita. Daniel Scott McNeve aveva segni di lividi su polsi e caviglie e i jeans gli erano stati tirati giù fino alle caviglie. Non c'era alcun segno di violenza intima tuttavia. A causa dei lividi dei jeans tirati giù e dall'attacco pieno di rabbia si credeva fermamente che fosse una delle vittime di Larry. 9 giorni dopo l'omicidio di Daniel Scott McNeve Larry uccide il 25enne Richard Bruce di Effingham, Illinois. Larry getta il suo corpo da un ponte in un torrente. Il corpo di Bruce non viene scoperto fino al 5 dicembre 1983. Durante i primi anni 80 i membri della comunità LGBT dell'Indiana iniziarono a temere che la serie di sparizioni e omicidi dei giovani della zona fosse opera di un serial. La polizia faceva continuamente irruzione nei bar e nelle librerie gay e spesso filmava i clienti che frequentavano questi luoghi per tenere traccia degli avventori. La gente però aveva paura che questo genere di video li avrebbe messi ulteriormente a rischio. C'è inoltre da dire che vi erano molte occasioni in cui la polizia chiudeva un occhio quando le persone della comunità LGBT venivano aggredite. Oppure erano gli stessi poliziotti a trattare male le persone della comunità LGBT. Nel 1983 il quotidiano gay The Works decide di creare una linea telefonica anonima sperando che possa aiutare la polizia a catturare il serial. Il giornale inoltre pubblica un articolo in cui si teorizza l'identità dell'assassino e le sue motivazioni. Tutti credono che sia qualcuno in piena lotta con la propria identità intima e che sia intento ad affrontare alcuni problemi di odio verso se stesso. Il giornale offre una ricompensa di 1500 dollari per qualsiasi informazione che avrebbe portato all'arresto e alla condanna dell'assassino. Il denaro viene raccolto dalla comunità LGBT così come dalla famiglia di una delle vittime. Durante la primavera del 1983 la polizia dell'Indiana inizia a collegare gli omicidi delle giovani vittime concludendo che probabilmente erano tutte state uccise dalla stessa persona. Infatti sei giorni dopo l'assassino di Daniel Scott McNeve 35 membri della polizia di stato dell'Indiana tengono una riunione in cui discutono proprio di questo. Le ferite che le vittime avevano addosso erano tutte simili. Le scene del crimine erano identiche tra loro. Gli ufficiali decidono che le persone coinvolte nelle indagini dell'omicidio devono formare una task force unificata il cui unico obiettivo è catturare il serial. Dunque uniscono le quattro indagini per omicidio che fino a quel momento erano state gestite separatamente. La task force è composta da due investigatori della polizia di stato, due della polizia di Indianapolis e due agenti di ciascuna contea coinvolti nella caccia all'assassino. Viene chiamato Central Indiana Multi Agency Investigation Team guidato dal tenente Jerry Campbell della polizia di Indianapolis. Per assicurarsi che tutte le persone coinvolte abbiano accesso ai file e agli eventuali aggiornamenti, tutte le informazioni sugli omicidi vengono inviate a un database informatico collegato a un sistema di polizia in tutto lo stato. Il primo giorno in cui la task force è in funzione contattano il National Crime Information Center dell'FBI. La task force parla loro del modus operandi del serial al quale stanno dando la caccia e del suo metodo di eliminazione dei corpi. Le autorità chiedono a tutti i poliziotti che hanno avuto casi di giovani uccisi con ferite simili di contattare la task force. Ed è proprio quello che succede una manciata di giorni dopo. Un nuovo omicidio viene denunciato e rispetta i parametri richiesti. Il 9 maggio 1983 il 18enne nero Jimmy Roberts viene ritrovato con 35 coltellate. Jimmy Roberts aveva vissuto nel complesso popolare Robert Taylor Holmes di Chicago. Viene scoperto sdraiato a faccia in giù sulla riva di Thorn Creek vicino alla 173 esima strada. Lo stesso giorno in cui una delle vittime di Larry, Daniel McNeve, è stata scoperta a Indianapolis. Appugnalate al petto e al collo. Le autorità sospettano che Jimmy Roberts sia una delle vittime di Larry anche se non hanno molte prove per dimostrarlo. In seguito Larry fornirà alla polizia delle informazioni sull'omicidio di Jimmy Roberts. Spiegherà come aveva posizionato il corpo e quali vestiti indossava. Sia Jimmy Roberts che Jay Reynolds erano, secondo le autorità, vittime di Larry. La task force aveva deciso di chiamare il serial l'assassino dell'autostrada perché i corpi erano stati scoperti principalmente lungo l'interstatale tra Illinois e Indiana e la maggior parte dei corpi era stata scaricata nei campi o in altre aree rurali appena fuori da queste zone. Il 6 giugno 1983 la task force riceve una telefonata molto interessante e illuminante. Thomas Henderson, uno degli ex fidanzati di Larry, crede che Larry sia l'assassino dell'autostrada. Finalmente le ricerche hanno una pista da seguire, un nome addirittura. Dice loro che Larry era stato accusato di una sorta di accoltellamento ai danni di un autostoppista nel 1978, ossia Craig Long. Thomas parla del carattere violento di Larry, del suo amore per la schiavitù e per il sadomaso. Spiega che Larry aveva lavorato al negozio di liquori Greencastle nei fine settimana mentre viveva con Robert Little a Terre Haute. Thomas aggiunge anche che nel maggio del 1982 Larry aveva rapito e sedato un ragazzo di Greencastle. Dopo che il ragazzo aveva perso conoscenza a causa di pesanti sedativi, Larry lo aveva semplicemente scaricato in una zona boscosa. Il ragazzo non aveva subito violenza e fortunatamente era sopravvissuto. Probabilmente, pensano gli agenti, l'incidente era venuto a crearsi perché Larry quel giorno stava solo testando gli effetti dei sedativi. Quando le autorità eseguono un controllo dei precedenti su Larry trovano il file del 1978. Aveva davvero accoltellato Craig Long. L'aveva addirittura quasi ucciso. A questo punto le autorità studiano le modalità con cui era avvenuta quell'aggressione. Osservano le coltellate, i polsi ammanettati e tutti i dettagli del caso. A questo punto sono sicuri. Le azioni compiute da Larry si adattano perfettamente al modus operandi dell'assassino dell'autostrada. Tengono anche conto del fatto che Larry viaggia spesso tra i due stati in cui sono avvenuti gli omicidi. La task force pensa che le nuove informazioni siano sufficienti per tenere traccia di dove si trovi Larry, ma non lo sono per metterlo sotto piena sorveglianza. La task force quindi chiede all'FBI di creare un profilo psicologico dell'assassino dell'autostrada. L'FBI lo fa presentando il profilo di un maschio bianco sui 20 o 30 anni. L'assassino ha una professione umile ed è una persona che probabilmente si presenta come macio o come uomo rude, una maschera dedita a nascondere l'odio che ha per se stesso. Secondo il profilo dell'FBI il soggetto ignoto è probabilmente un nottambulo e frequenta i bar. Ha timore di essere considerato omosessuale, quindi mostra profondo odio verso le persone che fanno parte della comunità LGBT. L'FBI sostiene che l'assassino dell'autostrada abbandoni le sue vittime senza nemmeno provare a nasconderli. Li copre al massimo con del fogliame. Il 2 luglio 1983 il corpo di un uomo ispanico sulla ventina viene trovato in un campo vicino a Paxton, Illinois. Era stato accoltellato sei volte all'addome ed era morto ormai da tre o quattro giorni alla scoperta del corpo. Non viene identificato, purtroppo. Due mesi dopo, il 31 agosto 1983, una squadra di boscaioli impegnate a tagliare gli alberi si imbatte nel corpo del 28enne Ralph Carlyes, ritrovato in un campo vicino all'Illinois Route 60. Era stato accoltellato 17 volte con un coltello da caccia o da macellaio. C'è una grande quantità di ferite sul suo addome e parte del suo intestino tenue è uscito dalla ferita. Gli investigatori credono fermamente che la vittima sia collegata ad altre due vittime di accoltellamento, ritrovate all'inizio di quell'anno, ossia Irving Gibson e Gustavo Herrera. Tutte e tre le vittime erano state uccise nella contea di Lake in un modo simile. L'8 settembre 1983 le autorità di entrambi gli stati si incontrano per discutere sulle ulteriori vittime di omicidio. La task force aggiunge i loro nomi all'elenco delle vittime che sono in continua crescita. A quel punto ci sono 17 nomi nell'elenco. Il 4 ottobre 1983 due ricercatori di funghi fanno una macabra scoperta nella contea di Kenosha, nel Wisconsin. Trovano un sacchetto di plastica che contiene un torso umano. La vittima era stata smembrata con un seghetto e il suo torso era stato prosciugato dal sangue. Il suo cranio e le sue mani non verranno mai trovati. La vittima viene successivamente indicata come il diciottenne Eric Hansen. Era stato visto l'ultima volta il 27 settembre a St. Francis, nel Wisconsin. Il 7 dicembre un cacciatore scopre un corpo nella contea di Hendricks, quello di Richard Wayne. Era scomparso il 20 marzo, mentre viaggiava dalla California a Montpellier, nell'Indiana, da dove proveniva. A pochi metri dal corpo di Wayne le autorità fanno una scoperta sorprendente. Sotto una casa mobile bruciata sono presenti i resti di un altro corpo. La vittima, ahimè, non viene identificata. Il 30 settembre 1983 Larry viene arrestato, ma non per omicidio. Il suo arresto avviene per una violazione del codice stradale, mentre viaggiava lungo l'Interstate 65 a Lowell, nell'Indiana. Larry non è l'unico passeggero del veicolo, infatti a bordo del pick-up è presente anche un giovane autostoppista. Entrambi vengono arrestati e portati alla stazione di polizia di Lowell. Larry viene accusato di adescamento. Il sergente William Cotran perquisisce il pick-up Ford di Larry. William, mentre perquisisce il veicolo, trova una corda di nylon. Il veicolo dunque viene sequestrato. Intorno alle 13.30 di quel giorno, due investigatori della Task Force incontrano Larry per un colloquio formale. Gli spiegano che, a causa di una telefonata anonima dell'ex fidanzato di Larry, l'uomo è ora sospettato di una serie di macabri omicidi. Larry parla con gli ufficiali di alcuni aspetti della sua vita, tuttavia si rifiuta di parlare della sua intimità e delle sue preferenze. Le autorità lo interrogano sugli omicidi di due uomini, ossia John Roach e Daniel McNeve. Larry dice loro che conosce il caso, ma solo perché l'aveva letto su Indianapolis Star. Nega dunque di aver ucciso John o David. Acconsente a far perquisire il suo pick-up per un esame forense. Inoltre si fa prendere le impronte digitali e si fa scattare una foto segnaletica. Addirittura dice agli agenti che se volessero fargli un test del poligrafo, lui accetterebbe volentieri senza esitare. Quando le autorità perquisiscono più attentamente il veicolo, trovano anche un coltello, due parti di una corda di nylon, un martello, una mazza da baseball, un nastro chirurgico, un altro martello e delle manette. Il coltello trovato nel veicolo tra l'altro ha del sangue sul manico. Gli investigatori prendono le impronte delle calzature e degli pneumatici del veicolo per confrontarli con quelli trovati sulle scene del delitto. Le impronte degli stivali di Larry corrispondono esattamente alle impronte sulla scena del crimine di Ralph Carlyse. Confrontando le tracce degli pneumatici scoprono che sono anche essi abbastanza simili. sanno che Larry viaggia regolarmente dall'Indiana all'Illinois. Larry ha frequentato tre aree principali, Chicago, Terre Haute e Greencastle. Queste tre località sono tutte aree in cui erano stati scoperti i corpi senza vita. La task force crede che Larry corrisponda al profilo dell'FBI che avevano fatto in precedenza dell'assassino dell'autostrada. Una volta che la polizia termina l'esame forense sul pick-up di Larry lo lasciano libero di andare. Può riprendere anche il suo veicolo. La task force è preoccupata che Larry possa però tentare di eliminare le prove poiché ora sa con certezza di essere nei radar della polizia come potenziale sospettato di omicidio. Il 1 ottobre le autorità della task force ottengono un mandato di perquisizione per la residenza a Terre Haute di Robert Little. La ricerca viene effettuata il 2 ottobre. In effetti trovano prove circostanziali che indicano ulteriormente che Larry potrebbe essere l'assassino dell'autostrada. Studiano i tabulati telefonici di Robert Little e scoprono che Larry chiamava regolarmente la proprietà di Little utilizzando le chiamate a carico del destinatario. Queste telefonate in effetti erano avvenute subito dopo gli omicidi dell'assassino dell'autostrada. Una delle telefonate di Larry proveniente da una cabina telefonica era avvenuta l'8 aprile 1983 vicino al Cook County Hospital. Quello era il giorno in cui Gustavo Herrera era stato assassinato. La polizia riesce a ottenere le cartelle cliniche di Larry e scoprono che a seguito di quella telefonata si era diretto all'ospedale lì vicino per farsi medicare un profondo taglio alla mano. Aveva detto al personale dell'ospedale di essere caduto dal suo pick-up e di essersi tagliato alla mano con una bottiglia di birra di vetro. Il giorno successivo a questo, chiamiamolo, incidente, Larry aveva acquistato delle manette e un coltello. Le ricevute di questi acquisti vengono trovate tutte nella proprietà di Robert Little. Scoprono inoltre che Robert Little e Larry hanno recentemente fatto una vacanza in New York City durata diverse settimane, tornano in Indiana poco prima che Ralph Carlyle venga assassinato. Le impronte degli pneumatici ottenute dalle autorità dell'Indiana vengono ritenute inadatte per il confronto con le tracce trovate sul luogo del delitto di Ralph Carlyle. Per questo motivo le autorità dell'Illinois contattano il procuratore di Stato e ottengono il permesso di sequestrare il pick-up di Larry. Lo sequestrano nuovamente quindi il 2 ottobre e lo portano presso il quartiere generale dello scerifo della contea di Lake. Il 2 ottobre Larry va a Waukegan in Illinois per parlare con l'investigatore Dean Collin. Durante l'interrogatorio Larry ammette che durante i rapporti intimi è il partner dominante, parla della sua relazione con John Dobrovolskis, descrivendola come una relazione di amore e odio. Dice all'investigatore Collin che lui e John litigavano spesso e che durante le loro discussioni John lo aveva colpito in più occasioni. Quando discutono dell'omicidio di Ralph Carlyle, Larry nega di aver mai incontrato la vittima. Contesta l'idea che le tracce di pneumatici o le impronte degli stivali sulla scena del crimine possano appartenere a lui. Durante l'interrogatorio Dean Collin dice a Larry queste esatte parole. Larry, sappiamo qualcosa di te. Se avessi litigato con John avresti scelto qualcun altro o lo avresti pugnalato proprio pensando a John. Questa affermazione fa sussultare visibilmente Larry. Poco dopo il suo rilascio, il 4 ottobre 1983, Larry assume l'avvocato di Chicago Kenneth Ditkowski. L'avvocato contatta il vice capo investigatore della Contea di Lake e riceve conferma che la polizia non ha prove sufficienti per accusare Larry di omicidio. Per questo motivo l'11 ottobre Kenneth Ditkowski intenta una causa civile sia contro la polizia di Stato dell'Indiana che contro l'ufficio dello sceriffo della Contea di Lake. Afferma che le autorità avevano molestato il suo cliente, violato il 14esimo emendamento e i diritti civili di Larry perché la polizia aveva coinvolto Larry nelle indagini senza prove sufficienti per accusarlo di omicidio. Il 6 ottobre le autorità inviano all'FBI a Washington D.C. le impronte degli stivali e degli pneumatici raccolte sulla scena del crimine di Ralph Carlyle. L'FBI studia queste informazioni e le confronta con le prove fisiche raccolte dalla polizia dell'Indiana. La task force spera che ci siano prove forensi sufficienti per dimostrare che Larry aveva commesso l'omicidio di Ralph. Dopo alcuni giorni l'FBI riferisce che le impronte dello stivale corrispondono. Ci sono quattro aree distinte sulle impronte degli stivali che mostrano segni di usura e danni alle suole. All'interno degli stivali vengono scoperte anche estese macchie di sangue. Il 27 ottobre la task force incontra gli investigatori della Contea di Lake per determinare se avevano prove sufficienti contro Larry per accusarlo per l'appunto di omicidio. Entrambe le giurisdizioni sono convinte di avere abbastanza prove per accusare Larry dell'omicidio di Ralph Carlyle. Entro 24 ore ottengono un mandato per avere dei campioni di sangue e capelli di Larry da confrontare con le prove rilevate sul suo pick-up. La causa civile di Kenneth Ditkowski avviene il 29 ottobre al Dirksen Federal Building in Illinois. Kenneth vuole accedere alla dichiarazione giurata che gli investigatori avevano utilizzato per richiedere un mandato di perquisizione per il veicolo di Larry. Sostiene però che non ci siano assolutamente prove schiaccianti contro il suo cliente. Il giudice Paul Punkett esamina la dichiarazione giurata dell'investigatore e stabilisce che Kenneth non può accedere ai documenti. Mentre che Kenneth e Larry stanno per lasciare il tribunale vengono fermati e affrontati da due investigatori della Contea di Lake. Possiedono dei mandati che gli consentono di prelevare dei campioni di sangue e di capelli. Così scoprono che il gruppo sanguigno di Larry è zero positivo. È proprio grazie a questa nuova informazione che Larry viene accusato dell'omicidio di Ralph il 29 ottobre. La sua cauzione viene fissata a un milione di dollari e il suo processo è previsto il 19 dicembre. Larry persevera dicendo a tutti di essere innocente. Durante delle interviste dei media l'uomo afferma che le accuse contro di lui assieme all'arresto stanno rovinando la sua reputazione sia con gli amici che con la sua famiglia. Larry insiste sul fatto che se avesse ucciso qualcuno allora ci sarebbero state prove reali contro di lui e non solo circostanziali. Il primo novembre la Contea di Lake riceve un mandato di perquisizione per la casa di Robert Little per la seconda volta. Robert Little è il professore. Cercano qualsiasi oggetto delle vittime convinti che Little o Larry avessero conservato alcuni dei loro oggetti come magliette oppure portafogli di cui le vittime erano sempre state ritrovate sprovviste. Vengono rinvenuti 221 articoli d'abbigliamento, alcuni gioielli, prodotti farmaceutici e addirittura alcune polaroide ma nessuno di questi oggetti sembra appartenere alle vittime. Eppure c'è anche una chiave che corrisponde ad un'altra chiave trovata nei pressi del corpo di Stephen Hagen. Un doppione che apre la porta di un ufficio in cui Larry lavorava nell'82. Il 12 novembre Larry licenzia Kenneth come suo rappresentante legale e, su consiglio di sua madre, Robert Little e John Dobrobloskis, Larry assume il difensore penale David Shippers. Shippers ha in mente una strategia da difesa diversa, proibisce infatti a Larry di rilasciare interviste ai media. L'udienza approbatoria avviene nel dicembre del 1983. Il nuovo difensore inizia ad attaccare un dibattito riguardante il primo arresto e la detenzione di Larry nonché sulla perquisizione iniziale del suo pick-up avvenuta senza le dovute pratiche, senza sufficienti prove. Il giudice William Bloch stabilisce che l'arresto per violazione del codice stradale di Larry fu legalmente valido ma accordò con il fatto che non furono raccolte sufficienti prove per avere un mandato adatto a perquisirgli il pick-up. Il giudice dunque afferma che la detenzione di Larry è illegale. Un'udienza viene fissata per il 23 gennaio 1984 per determinare se le prove fisiche e circostanziali raccolte tra il 30 settembre e il 22 novembre possano essere ancora accettate oppure soppresse. Durante l'udienza del 23 gennaio 1984 il sergente di polizia John Pavlakovich spiega il motivo principale per cui la polizia di Lowell aveva tenuto Larry in custodia il 30 settembre. Stavano aspettando l'arriva dei membri della task force. Inoltre Larry non era mai stato formalmente arrestato per nulla tranne per l'autostoppista. Dopo quattro giorni di testimonianza il 12 bloc aggiorna l'udienza al 27 gennaio. Il giudice dice al procuratore di stato aggiunto e all'avvocato di Larry David Shippers che c'erano abbastanza precedenti sia per l'ammissione che per la soppressione delle prove. Il primo febbraio il giudice Bloch stabilisce che la maggior parte delle prove contro Larry devono essere soppresse. Le prove fisiche come le impronte degli stivali e le tracce di pneumatici erano considerate prove contaminate. Perché? Perché la ricerca era stata possibile grazie alla detenzione di Larry da parte della polizia dell'Indiana. Avevano violato insomma i suoi diritti costituzionali. La polizia dell'Illinois si era impossessata degli stivali di Larry dall'Indiana usando un mandato di comparizione. Il problema tuttavia era che la polizia dell'Indiana non aveva mai sequestrato formalmente gli stivali di Larry. In definitiva l'unica prova consentita dal giudice Bloch erano le impronti degli pneumatici, i capelli e i campioni di sangue di Larry. Quando Larry era stato arrestato c'era solo l'accusa di allescamento. La polizia invece lo aveva interrogato sugli omicidi che non erano collegati al motivo per cui era stato arrestato. Larry viene rilasciato il 6 febbraio 1984 quando la famiglia di Robert Little paga la cauzione di 10.000 dollari. Anche se Larry non è più in custodia gli viene ordinato di non lasciare lo stato dell'Illinois. Un mese dopo il rilascio Larry Ehler si trasferisce in un appartamento a Rogers Park a Chicago. Robert Little compra immobili per la sua nuova casa e gli paga pure l'affitto facendogli pure un regalino delle nuove gomme per il suo pick up. Sei mesi dopo il rilascio ecco che Larry rincomincia a colpire. La notte del 19 agosto 1984 Larry porta nel suo appartamento Daniel Bridge. Il giovane non uscirà mai più da quella casa. Daniel era il più giovane di 13 figli educato duramente per questo motivo era solito scappare di casa. Nonostante sia etero è solito farsi pagare per delle prestazioni intime. Il giovane era amico di Erwin Gibson una delle vittime di Larry. Nonostante sia diffidente nei confronti di Larry comunque accetta di seguirlo nel suo appartamento dove una volta salito viene legato ad una sedia e pugnalato a morte. Il suo corpo viene poi portato in bagno a scolare dal sangue in eccesso e successivamente smembrato in otto pezzi per facilitarne il trasporto in alcuni sacchi della spazzatura buttati poco lontano da casa di Larry in alcuni cassonetti in teoria non accessibili agli inquilini del complesso dove risiede. È il custode del condominio Joseph balla a scoprire il cadavere di Daniel. Infatti già insospettito dal comportamento di Larry e dal fatto che il suo cane impazzisse sempre di fronte a quel cassonetto decide di aprire uno dei sacchetti trovandoci dentro una gamba umana. Il custode chiama immediatamente la polizia. Spiega ciò che ha trovato aggiungendo che crede addirittura di sapere chi si sia sbarazzato del corpo ossia l'inquilino Larry Ehler. Un altro custode di nome Al Burdiki aveva visto l'uomo scaricare l'immondizia nel cassonetto il giorno prima. Quando il custode aveva visto Larry gettare i sacchetti nel cassonetto gli aveva chiesto qualcosa riguardo il contenuto. Larry aveva risposto mi sto solo sbarazzando di un po' di merda presente nel mio appartamento. Quando il capitano della polizia Francis Nolan sente il rapporto sul corpo smembrato riconosce immediatamente il nome di Larry. Dice ai suoi ufficiali queste esatte parole. «Trattenete chiunque occupi l'appartamento 106, non mi interessa che sia». Larry viene arrestato pochi minuti dopo. Nei giorni successivi l'appartamento di Larry è pieno di agenti di polizia e della scientifica chiaramente. scoprono che la camera da letto era stata imbiancata di recente. Quando controllano la stanza per rilevare delle tracce di sangue le autorità si rendono conto che vi è un'enorme quantità di tracce ematiche. Il test del luminol eseguito nell'appartamento ormai vuoto di Larry mostra schizze di sangue sul pavimento, sul muro e addirittura sul soffitto di quella camera da letto. Mentre continuano ad analizzare l'appartamento trovano anche tracce di sangue di Daniel su un materasso, una sedia, una cintura di pelle ed un divano. Inoltre le asse del pavimento che conducono dalla camera da letto al bagno sono macchiate di sangue che formano un vero e proprio sentiero che porta alla vasca. Nell'armadio trovano addirittura i jeans sporchi della vittima mentre in un cesto di bucato pulito c'è la maglietta insanguinata della Duke University che la polizia sa appartenere a Daniel. Gli era stata regalata da un amico di cui controllava i fratellini come babysitter. Era consapevole che il giovane lavorava per strada e voleva aiutarlo in ogni modo possibile anche regalandogli una maglietta. Nell'appartamento vengono anche rinvenuti un punteruolo ed un seghetto con diverse lame interscambiabili. Di queste ci sono pure delle ricevute che dimostrano che Larry le aveva acquistate di recente. Quando le autorità danno un'occhiata ai sacchi della spazzatura che avevano contenuto i resti di Daniel, scoprono che sia all'interno che all'esterno dei sacchi sono presenti molte impronte digitali di Larry. Larry Healer viene quindi accusato dell'omicidio di Daniel Bridge il 22 agosto 1984. Afferma di essere innocente e dice alle autorità che probabilmente le sue impronte digitali sono state trovate sui sacchetti della spazzatura perché aveva toccato brevemente i sacchetti contenenti il corpo di Daniel mentre buttava la sua spazzatura in quel bidone. La polizia non crede neanche per un secondo alla sua versione dei fatti. I pubblici ministeri Mark Raccozzi e Rick Stock decidono di accusare Larry anche di rapimento aggravato, sequestro illegale e occultamento del corpo di Daniel Bridge. Con queste accuse possono chiedere legalmente la pena di morte. Il giorno dopo l'arresto di Larry, il medico legale della contea di Cook, il dottor Robert Stain, esegue un'autopsia sui resti di Daniel, la quale stabilisce che il ragazzo era stato pugnalato 14 volte con uno strumento simile a un punteruolo, principalmente al petto. Cinque delle ferite erano così profonde che si poteva scorgere la forma del suo intestino. Era stato inoltre pugnalato alla schiena fino a perforare cuore e un polmone. Ma non è finita qui. Daniel mostrava tutta la parte destra del viso gonfietume fatta a causa probabilmente delle diverse botte che Larry, prima di ucciderlo, gli aveva inferto. Il processo Larry inizia il primo luglio 1986 nella contea di Cook, Illinois. Si presenta di fronte al giudice Joseph Urso e si dichiara non colpevole di tutte le accuse. Non può permettersi un avvocato, quindi viene rappresentato da due difensori d'ufficio, Tom Allen e Claire Hilliard. David Shippers, tuttavia, dice al giudice che è disposto a lavorare pro bono nel caso di Larry. Nella dichiarazione di apertura del pubblico ministero Mark Raccoxy, parla delle prove fisiche circostanziali contro Larry. Larry finalmente viene processato con prove sufficienti per farlo incarcerare. Se i sacchi della spazzatura non fossero stati controllati e sarebbero finiti in una discarica e l'omicidio di Daniel, quindi, non sarebbe mai stato risolto. Il fatto che il custode Joseph Balla avesse deciso di spezionare ulteriormente i sacchi della spazzatura ha aiutato davvero molto le autorità. Nella dichiarazione di apertura, David Shippers dice alla corte che l'unica prova che le autorità hanno contro Larry sono le sue impronte digitali trovate sui sacchi della spazzatura. I testimoni avevano visto Larry gettare dei sacchi della spazzatura nel cassonetto, quindi era normale che le impronte digitali di Larry fossero all'esterno dei sacchi, contenenti i resti di Daniel. David Shippers sostiene che nessun testimone poteva effettivamente provare che Larry avesse effettivamente ucciso Daniel. Sottolinea che dal 19 al 21 agosto c'erano altri due uomini che erano stati nell'appartamento di Larry, Robert Little e John Dobrovolskis. Non credeva che ci fossero prove a sostegno dell'accusa di rapimento aggravato, perché non c'erano prove che Daniel fosse stato nel pick-up di Larry o che fosse stato costretto a entrare nell'appartamento di Larry. Quando il suo pick-up era stato perquisito, non erano riusciti a trovare fibre o impronte digitali che mostrassero che Daniel Bridge era stato nel suo veicolo. L'accusa chiama Robert Little a testimoniare contro Larry. Dice alla corte di essere stato nell'appartamento di Larry dal 17 al 19 agosto. Però Robert sottolinea che quando Daniel era stato assassinato, lui era ripartito alle 22.15 per tornare a Terre Haute, a casa sua. Va notato che l'ora stimata della morte di Daniel era alle 22.30 di quella notte. Il dottor Robert Stain, testimonia il 2 luglio, parla alla corte delle ferite che aveva trovato sul corpo di Daniel. I segni di dentellatura trovati sul suo corpo corrispondevano perfettamente al seghetto e alle lame di Larry. Durante il controinterrogatorio, il dottor Robert Stain testimonia che aveva trovato tracce di alcol e polverina bianca nel sangue della vittima. Questa informazione gli suggeriva che Daniel fosse entrato volontariamente nell'appartamento di Larry, andando contro l'accusa di rapimento aggravato. Il custode Al Burdiki testimonia affermando che il 20 agosto aveva visto Larry fare più viaggi, circa 10, dal suo appartamento al suo garage. Larry aveva spiegato all'uomo che stava prendendo degli strumenti per un lavoro. Ore dopo, il custode aveva visto Larry portare giù i sacchi della spazzatura dal suo appartamento e gettarli nel cassonetto. Gli furono necessari ben tre viaggi separati per liberarsi dei sacchi della spazzatura. John Dobrovlowskis, durante la sua testimonianza, dice alla corte che aveva chiamato Larry tre volte la notte in cui Daniel era stato assassinato, tra le 20.45 e le 23.25, senza ottenere mai risposta. Quindi lo aveva chiamato di nuovo il 20 agosto alle 2.45 di notte, un orario un po' insolito. Comunque, durante quella telefonata a John, Larry gli aveva chiesto di non andare nel suo appartamento, perché era con Robert Little, stavano trascorrendo del tempo insieme. John aveva pensato che fosse insolito, perché Robert Little normalmente tornava nella sua residenza di Terhout la domenica. Durante quest'ultima telefonata, John disse a Larry che aveva intenzione di andare a casa sua entro 15 minuti. Larry si affrettò a dire, no, non farlo, dicendo a John che sarebbe andato a trovarlo lui a casa sua. Infatti, era arrivato poco dopo essersi fatto la doccia. Non era interessato a fare cose intime con lui, il che portò John a credere che Larry stesse andando a letto con qualcun altro. Robert Little aveva precedentemente testimoniato di aver lasciato l'appartamento di Larry alle 22.15, quella notte, 15 minuti prima che Daniel fosse assassinato. Ma la testimonianza di John colloca Robert Little a casa di Larry ben oltre le 22.15. A seguito della testimonianza di John, David Little viene interrogato ancora una volta su quando aveva lasciato l'appartamento di Larry, quella notte. L'avvocato di Robert Little presenta una prova, ossia una ricevuta fiscale che dimostra che Robert Little aveva pagato il 20 agosto delle tasse sulla proprietà della sua residenza di Terhout. Secondo la ricevuta aveva pagato le tasse a mezzogiorno, il punto è che avrebbe dovuto pagare quelle tasse entro l'ottobre di quell'anno. Quindi, perché aveva scelto di pagarle così in anticipo? Ebbene, Little spiega che aveva abbastanza soldi per pagare il conto in agosto e dunque aveva preferito anticipare. Shippers è palese e voglia gettare ragionevoli dubbi nella mente della giuria su chi avesse ucciso Daniel. Mentre John è sotto giuramento, Shippers riesce a convincerlo a dire che il motivo per cui Larry non si era mostrato interessato ad avere un rapporto intimo arrivato a casa sua era perché aveva dormito con un partner, consenziente, nel suo appartamento poco prima di arrivare. Questo in effetti spiegherebbe perché aveva scelto di farsi la doccia prima di arrivare e perché Larry non aveva voluto che John si presentasse nel suo appartamento dal 19 al 20 agosto. David Shippers avanza l'idea che Little avesse deciso di pagare il conto in anticipo e di persona invece che per posta, come faceva di solito, perché voleva avere un alibi per dimostrare che non era a casa di Larry. Il tecnico forense Marion Caporusso testimonia l'8 luglio sostenendo che non era stato trovato del seme sui resti di Daniel. Questo era un dettaglio importante perché l'accusa credeva fermamente che Larry avesse portato nel suo appartamento per ucciderlo, non per avere un rapporto intimo. Non ci sono dunque prove a sostegno del fatto che Larry fosse andato a letto con Daniel. Durante il controinterrogatorio Marion Caporusso dice alla corte che durante la perquisizione dell'appartamento di Larry erano state rilevate delle macchie di sangue su un posacenere. Quelle tracce ematiche non appartenevano né a Daniel né a Larry. Non era chiaro a chi appartenesse il sangue poiché le persone che erano state nell'appartamento dal 19 al 21 agosto non avevano prelevato un campione di sangue per confrontarlo e Dio mi domando veramente il perché. Soprattutto alla luce di quanto è successo durante le vecchie indagini. Le dichiarazioni conclusive si svolgono il 9 luglio. Rick Stock, il pubblico ministero, conclude parlando delle gravi ferite di Daniel che hanno portato alla sua morte, del fatto che l'omicidio era premeditato e che Larry aveva cercato di coprire l'omicidio sbarazzandosi del corpo e ripulendo l'appartamento dopo il delitto. David Shippers, l'avvocato di Larry, dice alla giuria che non ci sono però prove del rapimento di Daniel. Aggiunge che i segni trovati sui polsi e sulle caviglie di Daniel erano presenti perché Larry amava il bondage e che Daniel aveva partecipato volentieri all'atto. Afferma quindi che Larry non è l'assassino. Invece sottolinea che la testimonianza di John ha in effetti dimostrato che Robert Litt era stato nell'appartamento di Larry fino alle 2.45 del mattino. Sottolinea che non solo Robert Litt aveva cercato di creare un alibi per se stesso ma che aveva accettato la versione dei fatti di John. La giuria delibera per tre ore prima di emettere il verdetto alla corte. Larry viene dichiarato colpevole di tutte le accuse dall'omicidio al rapimento alla restrizione legale all'occultamento del corpo. Il 30 settembre l'accuso e gli avvocati difensori si schierano davanti al giudice Urso per sapere quale sentenza avrebbe ricevuto Larry. Il pubblico ministero Rick Stock porta altre quattro persone e erano state tutte aggredite da Larry tra il 1978 e il 1981 inclusa una vittima che era stata data per morta. L'accuso mostrava che Larry aveva usato lo stesso modus operandi con tutte le sue vittime legando i polsi e le caviglie. Larry riempiva le vittime di sostanze alcol quindi straziava ed infine le accoltellava. Dal suo primo tentato omicidio il modus operandi di Larry non è mai cambiato. Il 1 ottobre David Shippers presenta quattro persone per testimoniare a favore di Larry e sono sua madre, sua sorella, il patrigno e un cappellano cattolico. Questi testimoni sostengono che Larry sia presumibilmente un uomo gentile e rispettabile. Sua madre, Shirley, parla della difficile situazione di suo figlio poiché aveva avuto più mariti violenti. La madre e la sorella di Larry piangono in tribunale implorando il giudice di risparmiare la vita di Larry. David Shippers spiega che ritiene la pena di morte inappropriata nel caso di Larry perché la sua accusa di omicidio era basata su prove circostanziali. Il 3 ottobre il giudice Jude Urso condanna a morte per iniezione letale Larry Ehler. Una volta condannato, Larry viene trasferito al Pontian Correctional Center nel braccio della morte. Purtroppo viene condannato per un omicidio soltanto e fa rabbia visto che più o meno tutti, anche senza prove, erano consapevoli delle sue mani sporche ed i ben oltre 17 vittime. Larry viene sottoposto a valutazioni psichiatriche che portano a galla il fatto che soffra di un disturbo borderline della personalità. Ha una forte sensibilità patologica ai sentimenti di abbandono. Da questa valutazione teorizzano che Larry avesse ucciso tutti quei ragazzi perché si sentiva rifiutato dal suo di ragazzo. Quindi avrebbe manifestato una rabbia cieca contro le sue vittime. Uccidere quegli uomini gli dava un senso di controllo sulla sua vita. In seguito riceve una condanna a 60 anni per l'omicidio di Stephen R. Egan. E ora parliamo un po' di questo omicidio. Allora, cerca di ottenere un accordo con i pubblici ministeri dell'Illinois dicendo loro che avrebbe dato loro i nomi delle vittime precedenti in cambio della modifica della sua condanna a morte in ergastolo senza condizionale. Nel maggio del 1988 Larry cerca di appellarsi formalmente contro la sua condanna. Dichiara che era stato Robert Little a uccidere Daniel quando era uscito dall'appartamento. Larry afferma di aver solo aiutato a smembrare il corpo e a sbarazzarsi dei resti in seguito. Inoltre dice anche che Robert Little aveva portato Daniel nel suo appartamento. In effetti, il veicolo di Robert Little non era mai stato perquisito e il suo alibi non era mai stato confermato. Il suo ricorso è stato ascoltato il 10 maggio 1989 ma è stato respinto pochi mesi dopo. La data di perquisizione di Larry viene fissata per il 14 marzo 1990. Il 5 novembre 1990 Larry assume l'avvocata Caitlin Zellner dell'ufficio del difensore d'appello dell'Illinois per rappresentare i suoi appelli contro la sua condanna. Larry Thomas, procuratore della contea di Vermillion, riesce ad ottenere delle prove contro Larry che erano state utilizzate per provare che Larry aveva ucciso Ralph Carlyle. Quelle erano le prove che erano state soppresse dal giudice William Bloch. Larry Thomas voleva sottoporre quelle prove al gran giuri dell'Indiana per vedere se Larry potesse essere accusato dell'omicidio di Stephen Egan che risaliva al dicembre del 1982. Quando Larry scopre che poteva essere accusato dell'omicidio di Stephen Egan confessa a lui stesso di essere colpevole. Larry sottolinea che Robert Little era stato suo complice nell'omicidio di Stephen. Quindi dice che avrebbe confessato l'omicidio e avrebbe testimoniato contro Little purché la sua condanna a morte fosse cambiata in ergastolo. L'offerta viene accettata, quindi Larry scrive una confessione di 17 pagine e la consegna al suo avvocato il 4 dicembre. Il 13 dicembre Larry Eiler si dichiara colpevole dell'omicidio di Stephen. Testimonia contro Robert Little affermando che l'uomo era suo complice e che aveva partecipato volentieri all'omicidio a dirla tutta. Robert Little aveva fatto un test del poligrafo prima del suo processo e quel test aveva dimostrato che l'affermazione di Larry sul suo coinvolgimento nel delitto sembrava curata. Il test del poligrafo sembrava anche autenticare l'affermazione di Larry secondo cui Robert Little aveva ucciso Daniel. Robert Little viene arrestato il 18 dicembre con l'accusa di omicidio di primo grado. Se condannato avrebbe scontato una condanna a 60 anni. Il 28 dicembre Larry riceve una condanna a 60 anni per l'omicidio di Stephen Hagen che avrebbe scontato in concomitanza con la condanna che aveva già ricevuto. Il processo di Robert Little inizia l'11 aprile 1991 nella contea di Vermillion. Ovviamente si dichiara non colpevole. Larry testimonia contro Little sostenendo che l'uomo aveva ucciso Stephen e riferisce alla corte che capitava spesso che lui e Little portassero giovani gay nella residenza del professore a Terhut. Little aveva pure fotografato qualche volta le loro esperienze intime. Secondo la deposizione di Larry il giorno della morte di Stephen Hagen Robert Little aveva suggerito di commettere un omicidio per il proprio piacere intimo. I due uomini erano quindi usciti alla ricerca della loro vittima. Stephen Hagen stava facendo l'autostop quindi i due uomini avevano attirato Stephen nel veicolo di Robert Little chiedendogli se gli sarebbe piaciuto andare a bere con loro. Larry aveva conosciuto Stephen Hagen prima dell'omicidio perché aveva portato la sua macchina presso un autolavaggio in cui Stephen lavorava. Stephen aveva deciso di andare con loro. Era etero ma la coppia era riuscita a convincerlo offrendogli del badge e una sessione fotografica a pagamento. Quindi avevano deciso di andare in un capannone abbandonato. Avevano legato e imbavagliato Stephen Hagen legandogli le mani sopra una trave. Little aveva gridato prendi il coltello e poi aveva iniziato a pugnalare la vittima. Larry afferma che Little aveva iniziato a toccarsi mentre fotografava Stephen. Durante il controinterrogatorio Dennis Zahn uno degli avvocati di Robert Little afferma che poiché Robert era stato testimone del processo di Larry per l'omicidio di Daniel queste accuse mosse da Larry erano una semplice vendetta. Niente di più. Era solo Larry che cercava di vendicarsi di Little. Dennis Zahn cerca di interrogare Larry riguardo 15 omicidi che l'uomo aveva commesso ma per ognuno di essi Larry si appella al quinto emendamento suggerendo invece di chiedere a Robert Little degli omicidi. A Larry a questo punto viene chiesto se avesse smembrato Daniel e lui ammette di averlo fatto ma continua a sostenere di non averlo ucciso. Larry viene interrogato sul motivo per cui non c'erano foto della notte in cui Stephen Egan era stato assassinato. La polizia aveva perquisito la casa di Little nel 1983 e nel 1990. Larry ovviamente spiega che durante la perquisizione del 1983 le fotografie dell'omicidio di Stephen Egan erano nascoste nell'armadio della camera da letto di Robert Little. Aveva distrutto le foto dopo che la polizia aveva perquisito la sua proprietà. Il dottor John Pless testimonia il 12 aprile parlando dell'autopsia che aveva eseguito sul corpo di Stephen Egan. Stephen era stato picchiato e accoltellato ripetutamente sebbene molte delle ferite fossero post-mortem. Era difficile determinare esattamente quando Stephen fosse morto anche se credeva che fosse prima del 21 dicembre 1982. John Pless aveva eseguito l'autopsia il 28 dicembre. L'avvocato difensore James Voiles dice alla corte che tra il 1958 e il 1989 non c'era stato un solo anno in cui Robert Little avesse trascorso il Natale in Indiana. Stephen Egan era stato assassinato il 19 dicembre 1982 anche se il suo corpo non era stato scoperto fino al 28 dicembre. Sua madre Grace testimonia di essersi trasferita dall'Indiana alla Florida nel 1958 e che suo figlio le aveva fatto visita una settimana prima di Natale ogni anno da allora. Una delle vicine della signora Little, Vicky Sue Jans, afferma di essere sempre andata a prendere Robert Little all'aeroporto dal 1981 al 1988. Arrivava sempre il 18 o il 19 dicembre. Però il pubblico ministero Mark Greenwell aveva prove che contestavano questa affermazione. Vengono portati infatti come prova dei registri che mostravano che il veicolo di Robert Little era stato portato in un'officina di Terre Haute per delle riparazioni il 21 dicembre 1982. Robert Little voleva testimoniare in sua difesa ma i suoi avvocati gli consigliarono di evitarsi la gita alla sbarra. Gli argomenti conclusivi per entrambe le parti vengono presentati il 17 aprile. Il pubblico ministero Mark Greenwell descrive l'omicidio come una performance che Robert Little aveva orchestrato per soddisfare la brama di schiavitù di Larry. Aggiunge che Larry non aveva nulla da guadagnare nel dire che Robert Little era un partecipante attivo perché aveva già confessato l'omicidio di Stephen Egan. Dennis Zahn dice alla corte che Robert Little era stato perseguitato perché era gay. Aggiunge che Larry stava inventando storie false su Little per vendicarsi di lui, approfittando anche di fare un ultimo tentativo per far commutare la sua pena di morte. Larry ha usato il quinto emendamento durante l'interrogatorio sugli altri omicidi ben 24 volte. Dennis Zahn si chiede se le parole di Larry siano affidabili riguardo al presunto coinvolgimento di Robert Little. La giuria delibera per sette ore. Tornano in aula affermando che Robert Little è non colpevole. Successivamente Robert Little dice ai giornalisti sono così felice che il calvario sia finito. Quando era stato arrestato Robert Little tra l'altro era anche stato sospeso come professore dall'Indiana State University poiché viene dichiarato non colpevole. Robert viene riammesso all'università in quella posizione di ruolo che tra l'altro ricopriva dal 1971. Robert Little non ha mai ammesso alcun coinvolgimento negli omicidi di Larry e nemmeno di essere stato suo complice. Larry Ehler dunque è condannato a morte per iniezione letale, però muore per gravi complicanze legate all'AIDS nel marzo del 1994. Aveva 41 anni. L'avvocato di Larry, Kathleen Zellner, aveva lavorato a un appello contestando la condanna di Larry nel caso di omicidio di Daniel. Credeva fermamente che l'ultimo ricorso dell'uomo che era ancora pendente presso la Corte Suprema dell'Illinois avrebbe ribaltato la sua condanna. L'appello affermava che l'avvocato di Larry, David Shippers, aveva un conflitto di interessi perché aveva ricevuto 16.875 dollari da Robert Little. Questo doveva aiutare nella difesa di Larry al processo per l'omicidio di Daniel, anche se Robert Little era un testimone dell'accusa. Larry Shippers, l'avvocato difensore di Larry, aveva informato il giudice urso che aveva offerto i suoi servizi pro bono e che, se queste circostanze fossero cambiate, avrebbe dovuto informare la Corte. L'appello prende atto della cattiva condotta dell'avvocato, sostenendo che la condanna di Larry non sia sicura. Questo conflitto di interessi avrebbe probabilmente dato a Larry un nuovo processo. L'appello sosteneva che era stato Robert Little a uccidere Daniel. Kathleen Zellner afferma che, nonostante la morte del suo cliente, lei avrebbe comunque continuato a presentare ricorso. Questo per chiarire alcune questioni legali in sospeso, come la polizia che non aveva indagato del tutto sul coinvolgimento di Robert Little nel rapimento e nell'omicidio di Daniel. Vengono pure nominati alcuni documenti che avrebbero potuto dimostrare che Larry non era colpevole di rapimento aggravato. Tuttavia, non sono mai stati messi a disposizione degli avvocati difensori di Larry prima o dopo il processo. Due giorni dopo la morte di Larry, Zellner rilascia pubblicamente una confessione postuma scritta dal suo cliente. Nel documento, Larry parla a lungo degli omicidi che aveva commesso, forrendo alle autorità nomi, date e dettagli sulle 17 vittime che aveva ucciso. Così come altre 4 vittime che aveva ucciso con l'aiuto di Robert Little, ossia Stephen Egan, Stephen Crockett e due vittime non identificate uccise nel 1983 e nel 1984. Zellner sottolinea che è stato Robert Little a uccidere Daniel e non Larry. Era stato anche sospettato di aver commesso un omicidio nel Kentucky e un altro nel Wisconsin. Kathleen Zellner descrive il suo cliente come qualcuno che aveva ammirato Robert Little, identificandolo come una figura paterna. Cosa che aveva desiderato ardentemente durante la sua infanzia. Un padre violento e una serie di orribili patrini lo avevano segnato, dunque Larry desiderava avere qualcuno di vulnerabile alla manipolazione e alla coercizione. Robert Little era un professore e Larry uno studente quando si erano incontrati. C'era stato uno squilibrio di potere quindi nella loro relazione, uno squilibrio che Little aveva sfruttato più e più volte. Aveva spinto Larry ad abbracciare il suo amore per la schiavazione, il santo e la violenza. Larry nella sua confessione postuma spiega di aver inseguito vittime gay e vittime etero. Avrebbe dato loro alcol e sostanze, avrebbe offerto loro denaro in cambio di servizi intimi, li avrebbe pugnalati più volte, avrebbe premuto il coltello contro il loro addome dicendo loro di fare pace con Dio. Larry afferma inoltre di non avere mai fatto nulla di intimo con nessuna delle sue vittime. Dava spesso le magliette delle vittime a Robert Little poiché quest'ultima quanto pare le usava mentre si toccava pensando al giovane defunto che una volta le aveva indossate. Dieci delle sue vittime provenivano dall'Illinois, dieci dall'Indiana. Il corpo di Cowboy, un prostituto maschile di Uptown, non era mai stato trovato ad esempio. Fu ucciso nell'aprile del 1984 nell'appartamento di Larry a Rogers Park. Era stata trovata solo una mano umana umozzata e John lo aveva aiutato a pulire le macchie di sangue presenti nel suo appartamento. Nella sua dichiarazione Larry nega di aver ucciso Daniel, affermando solo che lo aveva smembrato e si era sbarazzato dei resti del giovane. Dopo che Larry era stato arrestato per l'omicidio di Daniel, il giudice William Block della contea di Lake aveva subito gravi ripercussioni a causa della soppressione delle prove contro Larry nel processo per omicidio di Ralph Carlyle. A causa delle prove soppresse e dalla somma della cauzione fortemente ridotta, Larry fu permesso di ritornare in libertà. John Dobrovolskis si trasferì in California. Più tardi John e sua moglie Sally si trasferirono a Chicago. John morì di AIDS nel gennaio del 1990 all'età di 29 anni, era giovanissimo. Kathleen Zellner continua a esercitare la professione legale a Donors Grove, Illinois. È specializzata in condanne illecite. Non molto tempo dopo che Larry ha confessato di aver ucciso in tutto 21 giovani, Zellner ha promesso che non avrebbe mai più difeso consapevolmente un cliente colpevole. Nella sua confessione postuma, Larry parla dei quattro corpi sepolti in fosse poco profonde nella fattoria abbandonata della contea di Newton. Due di loro sono stati identificati nel giro di pochi mesi, mentre le altre due vittime sono rimaste non identificate. Larry aveva confessato al suo avvocato di aver incontrato per caso i due uomini non identificati, ossia Brad e Adam. Brad aveva incontrato Larry tramite Robert Little, tra l'altro. Larry aveva confessato di aver ucciso Brad, ossia John Brandenburg Jr., a metà maggio o alla fine di maggio del 1983. Scavando più a fondo emerge che ci furono altri casi in Indiana, giovani uomini pugnalati a morte e mutilati. C'erano vittime risalenti al 1982, vittime che erano state accoltellate a morte con i pantaloni e la bianchereia intima arrotolati alle caviglie. Si scoprirono così altri casi di omicidio nella contea di Kankakee, in Illinois e a Lowell, nell'Indiana. Le vittime erano tutti giovani ed erano stati assassinati in modo simile. A causa delle recenti scoperte che vedono Larry come l'assassino di molti altri casi, la polizia dell'Indiana ha riaperto le indagini. Purtroppo non ho scoperto nessuna novità su queste ennesime indagini che sono state riaperte. Detto questo io ho finito di parlare in questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Conoscevate questo serial? Come al solito ci becchiamo nei commenti, sono sempre molto curiosa di leggere le vostre opinioni. Io nel frattempo mi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!